No, ci dicete due parole delle stereotipi che abbiamo preso in casa con questa prima mostra perché sicuramente ne stava a raccontare dei cani. Beh, detto tutto quanto, Maria Rita, chiedono a sapere che va avanti la procedura, abbiamo fatto moltissimi di quei, mio padre ha fatto delle edizioni stupende che non sono più presenti e speriamo di continuare a lavorare con gli artisti e con i poeti ancora per molto tempo. Dobbiamo ringraziare i ragazzi che l'hanno curata, no? Allora, Pietro Lorenzo.